In Russia è la volta dei senza tetto. In molte città della federazione, associazioni caritative hanno dato il via alle vaccinazioni contro il Covid-19 per chi non ha i documenti in regola per accedervi. Il vaccino è inietato e chiaramente lo Sputnik. Penso che tutti debbano essere vaccinati finché il virus circola. Per noi bisogna essere vaccinati, per chi non è. Bisogna farlo per la nostra stessa salute. Dopo il vaccino io non sono stato male. Purtroppo, spiega la responsabile del programma della ONG Nocelsa, non si può essere vaccinati senza documenti. È possibile solo per i senza tetto che fanno riferimento alle associazioni come questa, l'Associazione Ospedale della Carità. Un'iniziativa, quella russa, destinata a fare i proseliti.